Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati sul canale Davide Chiara Channel! Oggi video spesa fatto da S.Lunga, ora iniziamo la carrellata dello scontreno. Bene, abbiamo speso 165,70 euro e guardate qua. Iniziamo la carrellata dello scontreno, giriamolo, guardate qua. Non vi indico i prezzi perché se lo scontrino è lungo, i prodotti sono tanti, sacchetti pure, quindi fatevi fare un'immagine per ogni prodotto. Bene, iniziamo con i classici Corven Bleu al prosciutto e formaggio, scontati del 30%, ottimi, questi qua sono veramente buoni. Abbiamo una busta di mozzarella, che ce ne sono dentro 3, per 100 grammi l'una. Queste qua sono della Brini e sono molto buoni, le abbiamo già mangiate e sono veramente eccezionali. Qua invece abbiamo 150 bicchieri di plastica, della Fidel, che dire. I bicchieri vanno bene. Qua abbiamo una rete di limoni, che costano lira di Dio, costicchiano, costocchiano. Quasi 3 euro? Quasi 3 euro e sembra che abbiamo preso un po' d'oro, una cesta d'oro. Poi abbiamo un chilo di carote, che queste qua fanno bene. Qua un chilo di carote ragazzi, 59 centesimi, un chilo di carote, guardate qua che belle poi. 59 centesimi, un chilo, ottimo prezzo. Casco di banane, le più economiche, 1 euro e 50, perché le altre costavano veramente un occhio nella testa. Poi abbiamo qua le fettine di filetto di pollo a fette, 4 euro e 26, scontato del 50%. Alla cassa viene effettuato lo sconto. Poi invece qua per la nonna abbiamo pensato di prendere delle fettine di scottona, 1,88 con lo sconto del 30%. Carne trita, scelta di vitello, costo 4 euro e 46, sconto del 30%, basta. Abbiamo qua i giusterini, che piacciono a mia moglie, della Vuoi, e sono buoni questi qua, della Citerio, sono veramente buoni e sono piccolini. Qua invece abbiamo un chilo di spaghetti della Buiello, dico la verità, questa qua non l'ho mai assaggiata. Ho assaggiata io, non è buona, non ha nulla del video. Vuoi assaggiare, vai vedere com'è. È mezzo chilo a... Mezzo chilo. Qua abbiamo invece, una... Qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 salamini pagati 2,58 euro, che questi qua mio padre si sbrana come niente, e io naturalmente. Pasta dell'Esse Lunga, questi sono... Elicoidali. Elicoidali. Maccheroni. Termine tecnico, maccheroni, non mi faccio contare, scusate. Un chilo, buono. Perché sulla pasta della Barilla non c'era proprio nessuna offerta. Mentre all'Iper c'erano un sacco di offerte. Dai. Qua sempre la pasta dell'Esse Lunga, perché vi ricordiamo, nessuno sconto, le mezze penne rigate. Penne rigate e mezze penne rigate. Un chilo cada uno. Due salami della Jag. Due pancette della Jag. E due mortadelle della Jag. Sono tre in realtà. Adesso uscirà anche la terza. Questi qua li mangiamo tutti in famiglia, perché sono buoni e il prezzo è conveniente. Allora, qua abbiamo due ceste di zucchine. Una pagata 1,48 euro, l'altra 1,05 euro. Allora, qua abbiamo due focacce con cipolla. Prezzo 2,38 euro e 2,85 euro. E sono molto buoni. Molto. Una pizza Margherita da 2,75 euro. 2,27 euro. E poi ho voluto prendere questa qua che non l'ho mai assaggiata. Romana condita. 1,51 euro. Me la voglio assaggiare. Ragazzi, finalmente ho ritrovato Gatorade originale. Queste quattro le portiamo al mare. Questa. Questa la beviamo adesso, perché faceva caldo. Cioè, questa la faceva caldo e abbiamo bevuto un po' di Gatorade. Di Gatorade, uno al limone e l'altro al gusto arancia. Rossa. Il limone piace a me, a mia suocera. Questo qua piace a me, a mio suocero. A me piacciono tutte e due. Qua ci abbiamo l'acqua tonica e la Coca Cola. Perché la nonna ogni tanto chiede qualcosa di buono da bere. Anche a me piace l'acqua tonica con il limone. Io lo metto per la Coca. Abbiamo 3 litri di latte della Steril Garda. 3 litri di latte della Steril Garda parzialmente scremato. Abbiamo i Wusser dell'Aia, V di Aia, al formaggio. Che mi fanno impazzire a me questi. Molto, molto buoni. Qua invece abbiamo preso due panetti di pasta per pizza. Da mettere in frigo, in freezer. Beh, conserviamo. Quando viene la pizza, abbiamo già ancora l'impasto. Abbiamo la bottiglia dell'olio friol. Perché ho preso le patatine fritte. Quindi magari stasera. Una scofanata di patatine fritte. Qua invece abbiamo due buste di grana della Virgilio. È un parmigiano reggiano. Mai assaggiata questa marca. È buono, l'ho assaggiata io. Vediamo com'è. Qua invece abbiamo uno yogurt della Müller. Alla vaniglia per mia madre. Qua ci abbiamo il tonno che perci tanto a mia moglie. Scorta famiglia. Contiene sei lattine. Del Nostromo. Che è buono. Era scontato questo. Una delle cose poche scontate. Adesso è lunga. Qua ci abbiamo le classiche dieci uova. Da allevamento alla terra. Qua ci abbiamo la vaschetta da un chilo. Che però mia moglie Chiara con il caffè non la mangia. Mentre l'offerta noi siamo golosi. Ci siamo presi quattro barattolini in San Montana. Gosto a bocciola. Questa è la fine del mondo. Costa un euro e ottantacinque. Questi li abbiamo voluti prendere. Perché ci piace. È buonissimo. E poi chi se ne frega. Se piace piace. Questa è l'unica cosa che proprio ci mangiamo di dolce. Ma il gelato è proprio troppo buono questa. Invece per mio nipote pizza di spinaci che va fuori per questa pizza qua. Mi piace troppo a Dennis. È contento. Buonissimo. Non dura fino a... Qua invece della Fidel un chilo e mezzo di patatine fritte. Queste sono molto buone. Ve lo assicuro. Queste qua l'anno lì alla mattina a fare colazione. Con le cornette alla crema. Non c'era la marmellata. Prendiamo la crema. Ho voluto prendere l'insalata mista della Fidel. Che era da tanto che non la mangiava e di buona. Un altro yogurt della Müller. Pesca e albicocca. Per mia mamma. Abbiamo i piatti di plastica. Dopla. Dopla. E semplici piatti. Invece mia moglie marca Smile ha voluto prendere questi... Questi fazzoletti in formato scorta. Sì perché erano sotto a mano. Non ho trovato quelli pucciosi. Ho voluto prendere questi. Non so perché. Allora qua della Sagra. Olio extravergine d'oliva da un litro. Il prezzo non me lo ricordo ma è molto buono. Scontato da su 3 euro e qualcosa. Molto conveniente. Guardate lo scontreno. Qua abbiamo invece tre scatolette di Simmental. Le mangio da mia moglie e mia mamma. Una buona bidente della Bernal al profumo di giglio e galsomino. Beh detersivo dei piatti di Nelson. Ottimo. Qua mia moglie perché è fine. Ha preso la ricarica e il sapone liquido per lavarsi le mani. Questo qua è latte e mandorla. Guardate la fashionosità e guardate cosa c'è scritto qua. Chiara. Ha completo da un diamante. Guarda non trovi che sia tutto delizioso? Sì ma ti consiglio di non usarlo e di tenerlo. Sì ma poi il packaging lo terrò. Questo me lo porto in vacanza è un balsamo. Effetto seta. Scintille di luce effetto seta per capelli spenti e crespi. Ma lo prendo per ammorbidire tantissimo. Per le fiere abbiamo preso questo. Tansic by Chiara Nasti. Non so chi sia Chiara Nasti però qua c'è Chiara. Abbiamo preso anche il dentifriccio della colgate per partire. Max White. Abbiamo preso il bagno doccia della Bilbo che questo è in fresca. Sì è una freschezza unica. Abbiamo preso la crema super abbronzante. Con la crema aloe vera che è protezione naturale. Questo è il dopo sole dell'aloe. Poi abbiamo preso una crema che questa vuole sinceramente... Giusto per il primo giorno è della Hawaiian Tropic. È buonissimo. Sa di papaya e cocco. È la protezione al 30 ma giusto per il primo giorno così. Poi adesso mi sono preso il gel da barbo perché anche se sono pochi giorni ma la barba cresce. Mi sono preso la pasta modellante. La voglio provare, non l'ho mai provata. Della testa nera. Invisibile. Vediamo com'è e poi per concludere abbiamo sempre preso l'acqua a miscellare. Guarda che carino. Per la zona ferie qua abbiamo concluso. Mini size bellissimo. Dato che abbiamo anche la bozza a frigo abbiamo preso 4 panetti di tereghiaccio. Così in spiaggia. Che bello, due rosa, uno verde e uno blu. Così in spiaggia abbiamo... Questi 98 centesimi l'uno. Roba fresca. Poi abbiamo un altro identifriccio per casa. Vedete sono due. Bene, video spesa e se non gas si conclude qua. Spero che vi abbia fatto piacere. Spero che vi sia piaciuto. E ringrazio tutti quanti iscritti di sempre. Nuovi iscritti. Spero che vi iscriverete al canale di coppia. Al canale Chiara D'Alessandro. Vi do una chicca. In collaborazione con Banggood. Ci sono arrivate delle chicche, delle perline di giochi scherzosi da fare sul canale di coppia. Quindi se vi interessa ci saranno delle challenge stupende. Quindi mi raccomando iscrivete. Quindi pollici in su. Ciao e buona serata. Arrivederci presto.